Ok, questa è una bellissima presentazione, vedete già come inizia Benvenuti su More Insane, cos'è questo canale? Questo è il mio canale secondario, sono in pigiama, faccio il cazzo che mi pare In questo canale potete trovare video non editati, ovvero io la mattina mi sveglio, voglio giocare a quel gioco per esempio E lo apro, mi metto a registrare 20 minuti, un'ora, non so quando mi va E lo carico direttamente su YouTube senza montarlo, forse se facessi così sarebbe anche meglio La webcam fa schifo, ma va bene, probabilmente non ci sarà nei video dei giochi, nei gameplay E basta, arrivederci